Studio 81 di Paolo Valentini è un'azienda che offre servizi alle imprese nel settore della sicurezza sul lavoro, della medicina del lavoro, dell'igiene degli alimenti, della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in grado di rispondere a tutte le esigenze di adeguamento alle normative vigenti. Studio 81 offre i propri servizi ad enti e associazioni, amministrazioni comunali, case di riposo, cliniche private, scuole, istituti bancari, piccole e medie imprese, società per azioni e la propria collaborazione e assistenza completa per l'espletamento e la regolarizzazione degli obblighi di legge. Studio 81 è in via Flumendosa 1 a Montesilvano.